Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, un video con un titolo un po' particolare, un argomento di cui sto facendo veramente fatica a parlarne, vi giuro questa è la diciottesima volta che inizio questo video, speriamo che sia la volta buona e incrociamo le dita. Allora, da settembre dell'anno scorso ho intrapreso un percorso di dimagrimento, alcuni di voi l'avranno notato, sicuramente l'avrete notato, ma io non ve ne ho mai parlato esplicitamente, anzi ogni volta che mi veniva chiesto io rispondevo, mi ricordo ho fatto anche dei video in cui lo dicevo, e dicevo ma no, mi sono solo sgonfiata, mi sto un po' disinfiammando. Ci tengo a specificare che non volevo assolutamente mentirvi, non volevo raccontarvi una fandonia o nascondervi qualcosa, anche perché io lo sapete, vi racconto tutto, anche tra un po' quanti peli ho nel naso, se potessi contarvi, lo sapete che ve lo direi, ma non ve l'ho mai raccontato e non ho parlato di tutto questo mio percorso in questo anno, nonostante potesse essere secondo me un argomento molto interessante, mi avrebbe portato un sacco di contenuti eccetera, ma non ve ne ho mai parlato perché la cosa a me mette molta soggezione. Io sono a contatto con voi ogni giorno, parlo con voi ogni giorno e ricevo tanti vostri commenti e messaggi e io vi giuro che da anni ricevo, adesso più frequentemente visto appunto il mio dimagrimento, ma negli anni ho sempre ricevuto messaggi dove magari qualcuno mi scriveva, si dà, oh ma sei dimagrita? Che non c'è nulla di male, solo che molto spesso questi messaggi erano seguiti da commenti del tipo non ci far preoccupare, tutto bene, stai bene, ti vedo dimagrita, mi raccomando eh! Sebbene questi messaggi so che provengono da un luogo di amore, affetto, totale nei miei confronti, grazie, questi messaggi mi uccidevano dentro, mi uccidevano dentro perché io vi ho raccontato il mio passato, l'abbiamo condiviso, l'abbiamo parlato, ne parliamo tuttora, però sembra davvero che non riesca a togliervi di dosso questo stigma del mio passato, di ciò che sono stata e mi hanno veramente bloccata dal parlare di dimagrimento perché sembra che io, dato il mio passato, non potessi, non possa decidere di perdere peso. Ho deciso di parlarne adesso perché questo mio percorso mi ha portato a non condividere tante cose a non raccontarvi tante cose e a non essere totalmente sincera che per me, per come ho impostato il mio canale, è una cosa veramente importante per me essere così genuina e trasparente è qualcosa che proprio mi fa stare bene quindi nel momento in cui sapevo che non vi stavo raccontando tutto, non mi faceva stare bene inoltre ho anche riflettuto su questi messaggi e devo dire che nonostante, ripeto, provengano da un posto di amore, affetto nei miei confronti sono anche sbagliati in quanto legano il dimagrimento a una malattia che non ha niente a che fare con il solo dimagrimento o meglio, il dimagrimento è un effetto di quella malattia ma la causa è ben altra per me la causa è stata una depressione e una forte tristezza proprio dell'anima ed è una cosa che io adesso non vivo, io adesso sono proprio felice, vivo la vita al massimo sono in un momento, e da anni ormai lo sono, in cui amo me stessa e amo chi sono, che cosa faccio quindi non ci sono proprio le basi per una malattia del genere per attecchire quindi ho deciso di parlarne spero che comprendiate perché in questi mesi non ho voluto parlarne esplicitamente ma sono una ragazza di 26 anni e sono una ragazza che qualunque decisione compie la porta poi sui social perché è stata questa mia decisione di vita e quindi poi devo far conto con tante opinioni degli altri ed è una situazione che magari molti di voi non vivono quindi nonostante io mantenga e cerco di mantenere una genuinità in ciò che racconto devo sempre stare attenta a ciò che dico e all'impatto che ciò che faccio può avere su le persone certo, ognuno vede ciò che vuol vedere, sente ciò che vuol vedere non deve prendere ciò che faccio alla lettera, assolutamente però su questo argomento sono molto sensibile e questa mia sensibilità mi ha portato a preferire di non parlare di questo mio percorso questa mia decisione piuttosto che parlarne dopo questa lunga intro vi voglio raccontare perché ho voluto dimagrire diciamo che più che un dimagrimento il mio obiettivo era fare una specie di ricomposizione corporea io sono arrivata a settembre dell'anno scorso che non mi piacevo più che dal punto di vista estetico non stavo bene nella mia pelle quindi a settembre ho deciso di intraprendere un cambiamento che ovviamente ha riguardato sia allenamento che alimentazione diciamo che per la parte dell'allenamento vi ho sempre raccontato tutto praticamente da settembre quando ho lasciato la mia personal trainer che facevamo degli allenamenti stile crossfit mi sono creata il mio piano di allenamento e ho fatto tantissimo in termini di infiammazione ho capito cosa funzionava sul mio corpo cosa mi faceva infiammare le gambe e cosa mi gonfiava soltanto e quindi ho studiato questo allenamento in modo da trovare un pochino un equilibrio tra sviluppo della forza, sviluppo muscolare e comunque mantenere una forma longilinea inoltre il fatto di seguirmi da sola mi ha concesso la possibilità di adattarmi nel senso che se un giorno avevo più energia perché magari erano 3-4 giorni che mangiavo di più in quell'allenamento spingevo di più mi veniva naturale perché non avevo un piano definito magari non so mi sentivo super energica e dicevo ma io ho voglia di correre andavo sul tappi e facevo cardio quando magari dovevo far gambe quindi questa flessibilità all'allenamento è stata secondo me molto importante nel mio percorso però quando si parla di perdita di peso diciamo che l'allenamento fa il suo indubbiamente ma quello che fa praticamente tutto è l'alimentazione e principalmente, essenzialmente, calorie in versus calorie out non è abbastanza mangiare sano se si mangiano più calorie di quelle che si bruciano questa è proprio, cioè, è così quindi ho dovuto fare degli aggiustamenti, dei cambiamenti non andrò molto nel dettaglio perché appunto vi ripeto, per me è difficile parlare di diete ipocaloriche perita di peso, calorie perché mi sento un po' a disagio a parlarne però se vedo che nei commenti siete anche un po' propositivi e positivi magari andrò più nel dettaglio in altri video però essenzialmente quello che ho fatto è cercare di capire quanto stessi mangiando a settembre quindi sì, per 2-3 giorni ho calcolato i macronutrienti e ho constatato che in quel periodo stavo mangiando in media 2500 calorie ogni giorno era diverso ovviamente perché io mangiavo intuitivamente quindi mangiavo a sentimento e quindi non ogni giorno era uguale però più o meno 2500 calorie a settembre quindi siccome io non volevo assolutamente usare app perché sarebbe stato facile, tra virgolette, usare l'applicazione vedere, calcolare tutto, inserire gli alimenti usare l'app costantemente, no, no grazie fatto, been there, done that non ho assolutamente intenzione di far diventare questo mio percorso un'ossessione anche perché volevo che fosse una cosa lenta duratura e tranquilla quindi quello che ho fatto è essenzialmente capire cosa era superfluo, cosa potevo togliere dalla mia giornata e ho iniziato togliendo lo snack dopo cena può sembrare una cavolata ma voi non avete idea di quante calorie io consumavo dopo cena per abitudine semplice, semplice abitudine era diventato una routine dopo cena mettermi sul divano prendere dello yogurt buttarci sopra una quantità smisurata di frutta secca che è calorica e quindi aggiungevo alla mia giornata solo dopo cena guardando la tv sul divano una cosa come 400 calorie e credetemi in frutta secca sono molto semplici da raggiungere perché la frutta secca è iper calorica per quanto super buona, valida omega 3, 6, 9, 2.000 ma ugualmente è calorica c'è poco da dire quindi va consumata con coscienza ho semplicemente cambiato abitudine e mi sono detta ma Silvia ma tu veramente hai bisogno di quella bowl di yogurt la sera? e con il tempo ho constatato che effettivamente no, non ne avevo bisogno era diventata soltanto una cosa che facevo quindi per i primi mesi ho cercato di combattere questa abitudine ogni tanto me la rifacevo perché dicevo whatever voglio la mia bowl di yogurt mi faccio la mia bowl di yogurt e frutta secca ma già quello il fatto di aver tolto questo senza cambiare altro nella mia giornata quindi continuando a mangiare a sentimento tutto il resto della giornata e ci tengo a precisare non ho eliminato alcun macronutriente ho sempre mangiato equilibrato comunque togliere soltanto quello snack la sera ha fatto un po' poi sono andata nelle Filippine lì nelle Filippine ho dato una bella botta perché sono state settimane complicate dal punto di vista alimentare in quanto non riuscivamo sempre a mangiare abbastanza ammetto che andava a letto a volte con la fame perché quando sei in viaggio è così e lì devo dire che in due settimane avevo perso un bel po' infatti poi sono tornata dalle Filippine ho realizzato che avevo perso troppo peso e quindi ho cercato di recuperarne un pochino quindi sì il mio percorso di magrimente è stato un po' tipo no ne ho perso troppo ora me lo ripiglio perché volevo sì sentirmi meglio nella mia pelle però non volevo neanche perdere tutte le mie forme le mie curve eccetera sto editando questo piccolo pezzettino e ci tengo a precisare che il mio obiettivo è quello di perdere peso ma perderlo nel modo giusto e perderlo lentamente con il giusto allenamento dietro mi ha permesso di dimagrire pur mantenendo una certa tonicità invece nelle Filippine mi ero semplicemente sciupata perché avevo perso peso non mangiando quindi non era stato un dimagrimento come lo intendevo io ma era stato più un denutrimento quindi tra una cosa e l'altra siamo arrivati al lockdown durante il lockdown ho deciso di impegnarmi molto in questo mio percorso i primi giorni del lockdown sono stati un po' difficili perché vabbè tutta la situazione complicato overwhelming c'è sto un po' tante emozioni sono stati un po' difficili in questo mio percorso però poi mi sono tirata sulle maniche e ho detto senti questo è il periodo migliore perché non ci sono tentazioni essenzialmente a livello di allenamenti li avete visti mi sono allenata principalmente a corpo libero stretching niente di trascendentale e adesso sono in un momento in cui voglio mantenere perché ho raggiunto il mio obiettivo ci tengo a precisare che il mio unico metro di paragone in questo mio percorso è sempre stato lo specchio e come mi sentivo non ho mai utilizzato la bilancia come unità di misura e infatti non ho mai avuto un obiettivo di perita di peso in termini di numeri il mio obiettivo era soltanto quello di raggiungere un momento che non sapevo quando sarebbe arrivato in cui mi sarei sentita io mi sarei sentita bene con me stessa nella mia pelle e nel muovermi eccetera penso di aver raggiunto quel momento adesso e adesso infatti sono in una fase di mantenimento insomma sto cercando di capire adesso come iniziare a muovermi ma ci tengo veramente a trasmettere il messaggio che tutto questo non deriva da un odio se così possiamo chiamarlo nei miei confronti di come ero prima io non mi sono mai guardata da specchio e ho detto mi odio anzi mi sono guardata a specchio e ho detto io mi amo talmente tanto che voglio sentirmi bene nel mio involucro perché il nostro corpo è il nostro involucro ed è una cosa che abbiamo e che possiamo modellare e che quindi io ho deciso di rendere più a misura della mia anima ho voluto compiere un percorso molto lungo al fine che potesse essere duraturo e che ciò che ho perso rimanesse perso avrei potuto fare una dieta super restrittiva perdere tutto quello che ho perso in dieci minuti ma questo non avrebbe avuto senso perché sarei finita soltanto affamata e con il desiderio di mangiarmi il mondo invece ho fatto questo percorso molto lentamente al fine di arrivare a questa situazione con una sanità mentale e fisica perché ho mantenuto un buon stato di salute per tutto che è la cosa più importante adesso sono una fase di mantenimento anzi sono una fase in cui vorrei aumentare il glutei perché secondo me c'è stata qualche perdita qualche curva se n'è andata però non importa adesso finita l'estate settembre ricomincerò ricomincerò cercando di mantenere il mio fisico finalmente e questo è il primo anno chi mi segue da tanti anni lo saprà ma finalmente non ho vissuto quel fisico inverno fisico estate che è una cosa che ho sempre odiato cioè io per anni sono sempre arrivata a giugno dopo tutto l'inverno dove mi guardavo lo specchio e non mi piacevo e quindi poi praticamente l'estate vuoi il tempo più caldo vuoi le più cose da fare vuoi magari maggior movimento dimagrivo arrivavo a fine estate dicevo ottimo questo fisico mi piace bene ricomincia l'inverno e quindi era sempre un effetto io-yo che io ho sempre odiato perché io voglio stare bene con me stessa sempre non voglio mai mai guardarmi lo specchio e non vedermi bene voglio sempre sentirmi bene e perché per me questo è benessere ragazzi non so quanto lungo sarà questo video ma io vedo 34 minuti sono 34 minuti che parlo anzi con la testa faccio anche una story appena finito di registrare anzi è ancora in recording Inception siete siete nel vlog ragazzi io spero che capiate perché ho deciso di non affrontare questo discorso prima spero di essere riuscita a trasmettere un messaggio di equilibrio e lo spero davvero perché ho il cuore cioè so che quando caricherò questo video avrò il cuore qui per l'ansia e la preoccupazione di essere giudicata su questo tema su questo argomento e non lo so mi dispiace anche per chi avrebbe voluto seguirmi in questo mio percorso ma non l'ho non l'ho condiviso e non l'ho raccontato però se avete qualche domanda se siete curiosi di quello che ho fatto non lo so magari ci sono cose argomenti temi che non ho affrontato in questo video fatemelo sapere e io forse potrò fare un piccolo Q&A su questa cosa ho paura a caricare questo video ve lo dico anzi se siete arrivati fin qua alla fine grazie per per averlo guardato ciao ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un'uomo di iscrivervi al canale lasciando un commento noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao grazie a tutti